eccoci qui siamo in diretta e stiamo con alessandro chiavelli segretario dello spi cgl di padova facciamo questa cosa in diretta proprio live nel vero senso della parola perché in questo momento alessandro ti trovi proprio in centro a padova ecco qui sono davanti a palazzo moroni stia sono insieme ai compagni e gli amici di cgl fnp cis e will post e will pensionati e stiamo facendo questo sit in che parte da un'iniziativa nazionale lanciata appunto da cgl cis le will pensionati lanciata per gli uomini e dagli uomini contro la violenza sulle donne perché come dice come dice il titolo del nostro della nostra iniziativa cari uomini abbiamo un problema cioè il problema della violenza sulle donne sono gli uomini e quindi deve partire dagli uomini questa questa questo tentativo di cambiare di cambiare proprio l'approccio rispetto alla alla drammaticità del problema della violenza sulle donne quindi non è un problema che devono affrontare solo le donne ma in primo in primis devono essere gli uomini perché sono gli uomini che producono la violenza e che avete fatto questa questa manifestazione nonostante da oggi il veneto in zona arancione proprio perché ci credevate volevate comunque lanciare un messaggio assolutamente sì noi volevamo volevamo lanciare un messaggio molto forte questo è l'inizio di un percorso noi raccoglieremo firme faremo tutta una serie di iniziative faremo tutto quello che noi riterremo necessario per tentare di cambiare una come dire un approccio e una filosofia rispetto a questo tipo di problema perché non è che qui discutiamo parliamo solo della drammaticità sconvolgente del femminicidio ma anche la violenza quotidiana la violenza dentro le famiglie la violenza tra coppie la violenza nei luoghi di lavoro la disparità che esiste ancora oggi nel lavoro tra uomini e donne legate alla carriera legate alla differenza salariale noi pensionati una grande battaglia contro il fatto che le pensioni tra gli uomini e le donne sono nettamente diverse diciamo noi vogliamo come uomini far partire questo tipo di campagna per dire il problema sulla violenza la della violenza sulle donne tutto tutte le tipologie di violenza sono gli uomini e devono essere gli uomini a cambiare completamente lo il loro modo di pensare il loro modo di approcciarsi la loro quotidianità rispetto al rapporto con le con le compagnie con le figlie con 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 tutto con tutto il mondo femminile è una delle prime volte che in realtà gli uomini scendono in piazza quest'anno ancora di più secondo te perché la anche la pandemia ha contribuito in questo perché sicuramente i dati che noi abbiamo che insomma che abbiamo tutti è che la pandemia e ciò che è successo ha aumentato in maniera esponenziale la violenza sulle donne la violenza domestica noi siamo sconvolti dal dal sentire ormai purtroppo quotidianamente di femminicidi di omicidi di donne e noi vogliamo assolutamente che questa cosa non passi come una notizia come tante altre la cosa che a noi sconvolge che ci sia il pericolo che ci in qualche maniera ci si possa a sue fare rispetto a questo tipo di problema e poi soprattutto perché quello che sta succedendo tra le tra i tanti problemi anche questo l'aumento della violenza sulle donne e noi pensiamo che come uomini non possiamo e non dobbiamo più rimanere non dico indifferenti ma come dire non mettere questo problema come il primo dei problemi sui quali noi dobbiamo ragionare alessandro perché proprio i pensionati vai pensionati perché 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 come dire tra i pensionati ai pensionati sono quelle persone che probabilmente la dico così per età anagrafica per cultura potrebbe pensare potrebbe uno potrebbe pensare quelli per cui è più complicato tentare di cambiare filosofia in realtà noi vogliamo dimostrare che proprio sono i pensionati cioè quelli che hanno qualche anno in più che devono lanciare un messaggio a tutte le generazioni a tutte le generazioni di uomini perché la violenza sulle donne è un problema purtroppo intergenerazionale che che coinvolge tutti i tuoi giovani giovanissimi gli anziani e anche i grandi anziani anche i grandi anziani uno dei grati abbiamo abbiamo visto dei casi di femminicidio trattato anche recenti in cui protagonisti non erano più giovani erano sicuramente sopra i 60 anni quindi effettivamente stiamo parlando di un problema che riguarda tutti riguarda assolutamente tutti e noi vogliamo e noi vogliamo appunto con oggi ma non è oggi perché oggi abbiamo deciso di farla qui ma questa campagna è stata lanciata qualche settimana fa e vogliamo che sia uno degli argomenti se non il primo argomento sul quale noi non non faremo non faremo deroghe e che può sottoscrivere come possiamo sottoscrivere questa campagna allora per sottoscrivere basta andare basta andare sul sito allora firma l'appello su www abbiamo un problema punto it e vediamo se riusciamo anche a metterlo online abbiamo un problema punto in questo esatto vediamo se ci riusciamo in qualche modo facciamo tutto in diretta quindi cari uomini abbiamo un problema allora vediamo se riesco a fare una condivisione del vediamo un po se ci riesco allora scrivere cari uomini abbiamo un problema dovrebbe essere questo se lo vedi anche tu e lo vedi esatto e qui si può assolutamente firmare l'appello assolutamente assoluto possono firmare possono firmare tutti chiaramente noi quello che speriamo è che siano tantissimi uomini quelli che decidono di firmare perché ripeto noi dobbiamo fare cultura agli uomini dobbiamo spiegare che la violenza deve essere assolutamente bandita nel rapporto deve essere bandita in generale ma in questo caso lo deve essere nei confronti delle donne e come dicevo prima e non è solo la violenza la violenza fisica che è la punta dell'iceberg la cosa più sconvolgente ma anche la violenza psicologica è la violenza sui luoghi di lavoro è la violenza legata alla differenza salariale alla differenza pensionistica cioè a tutte quelle cose che come dire creano differenza creano differenza tra uomini e donne quindi a qualunque tipologia di violenza questo allora alessandro noi ti ringraziamo soprattutto per essere scese in piazza assieme a tutti gli altri e lanceremo i vostri appelli tra l'altro ci collegheremo anche con venezia oggi pomeriggio che mi sembra loro saranno appunto a campo san geremia attorno alle 15 quindi ci collegheremo anche con loro per sostenere questo a questa battaglia di civiltà chiamiamola così a tutti i livelli intanto grazie soprattutto per il vostro gesto grazie a voi grazie a voi grazie buona giornata grazie arrivederci